Si è tenuto alla libreria La Feltrinelli di Perugia, in Corso Vannucci, un confronto pubblico sul libro Manifesto per il reddito di base, al quale sono intervenuti l'autore Emanuele Leonardi, ricercatore dell'Università di Coimbra, Portogallo, Alfonso Gianni della Fondazione Cercare Ancora, Laura Agea, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, e Stefano Vinti dell'Associazione Culturale Umbria Left che ha introdotto e coordinato il dibattito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.